Ciao a tutti, abbandona chi disprezza il successo altrui. Prima di affrontare questo tema iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ti ricordo inoltre gli appuntamenti, l'appuntamento di Torino, venerdì 7 febbraio 2020, ora 20.45 con il mio seminario dal titolo Seduzione Emozionale per Conquistare Chi Desideri. Il riferimento è il 333 15 11 703. Inoltre ti ricordo l'appuntamento di Milano, domenica 1 marzo, full immersion dal 9.30 alle 19 dal titolo Autostima e Seduzione in Amore al Lavoro. Il riferimento è il 333 15 11 703. E poi ti ricordo inoltre che puoi abbonare il canale Massimo Terramasco, iniziando il tuo percorso di crescita personale con me, con l'abbonamento base riceverai delle elezioni mirate, con l'abbonamento top oltre alle elezioni mirate anche le registrazioni dei seminari dal vivo. E poi abbonarti anche al canale Felicità e Benessere con un abbonamento simbolico diventare moderatore del canale e avere attenzione durante le live. Bene, veniamo al tema. Allora, bisogna imparare ad allontanare tutte le persone negative della nostra vita. Una di queste tipologie, che è veramente molto negativa, sono le persone che disprezzano gli altri, le persone che non prendono in considerazione. Anzi, quando una persona o un'altra persona, sia esso un amico, ma talvolta anche un partner, talvolta anche un familiare o chi per esso ha successo nella vita, loro tendono a disprezzarlo. In questo modo, intanto, loro non raggiungeranno mai il successo e si condannano, si autocondannano a ciò che vogliono evitare, cioè la mediocrità. Perché chi passa le sue energie a disprezzare gli altri, a parlare male degli altri, a provare emozioni con gli altri, non potrà mai realizzarsi in alcun modo nella propria vita, non potrà mai ottenere successi, perché vive in funzione degli altri, quindi avrà una vita mediocre, fondamentalmente. Poi le persone che disprezzano gli altri cercano di deformare la realtà, perché si vedono sempre come vittime e gli altri vengono sempre, le altre persone vengono sempre viste come aggressori, vengono sempre viste come persone estremamente negative, vengono sempre viste come persone che sono estremamente negative. E quindi loro tentano in tutti i modi di denigrare, di disprezzare. Deformano la realtà al loro vantaggio fondamentalmente. E li riconosciamo, come riconosciamo queste persone? Beh, dall'intolleranza. Una delle caratteristiche principali, fondamentali che hanno queste tipologie di persone sono proprio l'intolleranza. Cioè sono intolleranti, non tollano le differenze, non tollano le diversità. E poi esprimono delle opinioni puramente soggettive, le loro opinioni, come se fossero verità assolute. Ecco, quindi questa è un'altra caratteristica che hanno queste persone. Quindi chi ti pone, si pone, diciamo così, come detentore della verità assoluta in questo modo è di fatto una persona che tende a disprezzare. Quindi è meglio allontanarsi perché noi dobbiamo salvaguardarci da persone che ci generano malessere, salvaguardarci da persone che ci generano, diciamo, negatività. Dobbiamo avere la forza di essere liberi, dobbiamo avere la forza di essere, diciamo, come dire, non condizionati. Perché questa tipologia di persone tende a condizionare moltissimo. Perché nel disprezzare vuole, come dire, convogliare la vita degli altri su binari loro. Quindi intolleranza, tentativo di manipolare, sono tutte situazioni che ti fanno capire che è una persona da allontanare dalla tua vita. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. iscriviti al canale e ti ricordo l'appuntamento di Torino, venerdì 7 febbraio 2020, ore 20.45, col mio seminario sulla seduzione emozionale per conquistare chi vuoi. Riferimento 333 15 11 703. Inoltre ti ricordo l'appuntamento di Milano, domenica 1 marzo 2020, fu un'immersion dalle 9.30 alle 19, un seminario dal titolo autostima e seduzione, in amore al lavoro. Ricordati inoltre che puoi abbonarti ai canali. Ciao a tutti.